Qualche altra buona notizia, il programma completo del mattino degli outstanding speaker, degli speaker di eccezione è online. 52 speaker di eccezione da oltre 30 paesi si troveranno in ottobre al 23esimo Integrale Euro Trust Gathering. Sarà un evento indimenticabile. Se sei già iscritta, se sei già iscritto è il momento di condividere, è il momento di partecipare alla co-costruzione di questo evento epocale. Se non sei già iscritto, aria, forza, cosa aspetti? Un'incredibile opportunità e una straordinaria vacanza in Toscana ai primi d'ottobre. Andando sul sito troverai titolo, orari, fotografia, abstract e breve biografia dei vari presenters. Per ora, come ti dicevo, questi 52 sono i relatori d'eccezione, ma saremo inoltre 200. presenters, inoltre 200 professionisti che porteranno nel loro cuore la loro conoscenza, la loro esperienza, creatività per stare insieme, per creare opportunità di risveglio. Ci divertiremo, ci aspettiamo. Grazie. 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 Grazie.